buongiorno ragazzi vi ricordate di quando abbiamo parlato delle equazioni oggi impariamo alcune regole che ci permetteranno di risolverle prof sempre regole regole ovunque un'equazione ragazzi è un'uguaglianza tra due membri immaginate i due membri come due piatti di una bilancia per essere valida l'uguaglianza il peso di un piatto deve essere uguale al peso dell'altro piatto vediamo come possiamo modificare i due piatti senza alterare i due pesi e quindi mantenendo l'uguaglianza verificata prendiamo l'equazione 2x più 1 uguale 5 che ha soluzione x uguale a 2 infatti sostituendo alla x il 2 otteniamo 2 per 2 più 1 uguale 5 sul primo piatto della bilancia abbiamo l'espressione 2x più 1 e sul secondo piatto della bilancia abbiamo 5 proviamo ora ad aggiungere un peso aggiungiamo ad esempio più 4 ovviamente se lo aggiungiamo solo al primo membro e non al secondo la nostra bilancia non sarà in equilibrio quindi se vogliamo sommare più 4 al primo membro dobbiamo necessariamente sommarlo anche al secondo otteniamo quindi che 2x più 1 più 4 è uguale a 5 più 4 cioè 2x più 5 uguale 9 apparentemente questa equazione sembra diversa da quella di partenza ma la nostra bilancia ragazzi è in equilibrio anche adesso questo significa che la soluzione dell'equazione non è cambiata e sarà sempre x uguale 2 verifichiamolo sostituendo a x 2 otteniamo 2 per 2 più 5 uguale 9 2 per 2 fa 4 e più 5 fa proprio 9 a partire da questa equazione possiamo ora togliere un po' di peso per esempio possiamo scrivere meno 5 da entrambe le parti in modo che la bilancia resti in equilibrio otteniamo 2x più 5 meno 5 uguale a 9 meno 5 cioè 2x uguale 4 ma sarà rimasta davvero invariata la nostra soluzione? proviamo 2 per 2 uguale 4 e ancora un'uguaglianza verificata eh prof per me può sommare anche mille da una parte e dall'altra ma non vedo il senso Moretti pensiamo ad esempio all'equazione 2x più 5 uguale 9 guardandola in questa forma non è facile trovare subito la soluzione dovremmo pensarci molto oppure provare tanti numeri prima di trovare la soluzione giusta possiamo però fare un piccolo passo e sottrarre 5 a entrambi i membri abbiamo visto che questa operazione ci dà 2x uguale 4 e di questa equazione è molto più semplice trovare subito la soluzione il numero che moltiplicato per 2 dà 4 non può che essere 2 quindi x uguale 2 il primo principio di equivalenza ci garantisce che se sommiamo o sottraiamo da entrambi i membri la stessa quantità l'equazione che otteniamo è equivalente a quella di partenza cioè le soluzioni delle equazioni non cambiano prendiamo la nostra equazione 2x uguale 4 che ha come soluzione x uguale 2 se raddoppiamo il peso di entrambi i piatti della bilancia questa continuerà ad essere in equilibrio quindi ad esempio se moltiplichiamo per 2 entrambi i membri l'equazione continuerà ad avere le stesse soluzioni 2x per 2 uguale a 4 per 2 cioè 4x uguale a 8 che ha come soluzione sempre x uguale a 2 infatti sostituendo alla x il 2 otteniamo 4 per 2 uguale 8 potrebbe essere comodo semplificare ulteriormente l'equazione possiamo ad esempio dividere entrambi i membri per 4 e ottenere 4x diviso 4 uguale a 8 diviso 4 cioè anche in questo caso x uguale 2 che è proprio la soluzione dell'equazione questa regola non è altro che il secondo principio di equivalenza che ci dice che se moltiplichiamo o dividiamo entrambi i membri per la stessa quantità l'equazione che otteniamo è equivalente a quella di partenza cioè le soluzioni non cambiano come abbiamo visto è molto utile conoscere questi principi perché ci permettono di semplificare molto l'equazione fino ad arrivare alla sua formula più semplice cioè la soluzione eravamo partiti dall'equazione 2x più 1 uguale 5 e tramite diversi passaggi siamo infatti arrivati ad ottenere x uguale 2 utilizzando semplici somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni applicate a entrambe i membri senza viceversa faticare per trovare a intuito o con tanti tentativi la soluzione corretta ma sarà che ci ho capito poco ma sembra quasi magia quasi moretti è algebra alla prossima!